Ecco la persona che volevo incontrare, l'amico di Don Matteo, l'uomo dei pacchi, uno scrittore e tutto questo è ancora di più e tu come ti definisci? Chi sei? Ma era inquieto uno, avrei dovuto fare il marinaio, mio padre era ufficiale imbarcato in marina, era ufficiale medico, io dovevo fare, il medico no, ma se avessi seguito veramente l'istinto avrei dovuto fare quello. Ma non volevi fare il carabiniere? Sì, a parte se può fare pure in un posto di mare il carabiniere, poi se si può imbarcare, però fondamentalmente quella è la cosa che più mi fa felice, stare davanti al mare, starci sopra, sentirlo, il rumore, l'odore, il profumo, di notte, di giorno, di inverno, d'estate, primavera, mi sono sbagliato, anche il guardiano del faro andava bene. Invece hai incontrato Gigi Proietti? Sì, non subito, ma sì, lo incontrò da ragazzino una volta perché la scuola ci porta a vederlo e poi ci portarono in camerino, rimasi paralizzato perché gli avevano detto se ce n'è uno che è simpatico vorrebbe fare e lui, che era sei metri per due, poi dopo averlo visto recitare rimaneva in bocca aperta, fece aprire i ragazzini, fa qual è? E dice questo, ero io, è rimasto sui, non riuscì neanche a dire buonasera, salve, niente, così. Anni dopo rimango veramente folgorato tornando a vederlo a teatro un po' più adulto, io ho già un po' più cresciutello e poi anni dopo riesco ad entrare nella sua scuola dopo una lunga serie di selezioni, un numero altissimo di aspiranti, attori, attrici che arrivavano da tutta l'Italia. La scuola sua era meravigliosa, aveva la borsa di studio, era una scuola… mi piaceva una cosa, era parificata ai corsi regionali per perfezionamento professionale, cioè era come un corso per falegnami, per idraulici, per essere vetraglio. Infatti quando io dico, tornando anche alla tua domanda, dice chi sei? E io quando dico un operaio specializzato, fortunatissimo, un artigiano, non lo dico per finta modestia, per snobbismo, perché fare un personaggio in un telefilm, fare il Capitano dei Carabinani Don Matteo, provare a condurre una puntata di Affari Tuoi o anche scrivere delle pagine, è come provare a fare una bella sedia, la zampa è storta, la riappoggi, la seduta non è comoda, lo schienale. E poi io lo dico anche secondo me per una difesa dal ridicolo, dico artigiano perché se stabiliamo che Pasolini era un artista e lo è, Picasso, Robert De Niro, non ci stiamo nella stessa... Non stiamo facendo delle operazioni a cuore aperto. Quello sempre, le faccio a mio padre che la chiurgo. E lo citi spesso, chi è per te un maestro? Lui lo è stato? Lui lo è stato, lui lo è stato o lo è, perché ancora quando lo incontro io non mi approccio come fanno altri, come dire, tanta felicità a chi? A Gigi, ciao, bene, io quando lo incontro rimango ancora per me, è il maestro, faccio fatica. Chi è il maestro? Il maestro è un uomo che, secondo me, ti fa trovare dei tesori dove tu pensi che ci sia la noia. E questo è un maestro, secondo me. E infatti quando vai a teatro le prime volte, che la scuola, non a vedere i proietti, ma alle 10 mattina ti trascina a vedere la tragedia greca, senza darti gli strumenti, tu dici se questo è il teatro io voglio essere il più grande cafone del mondo. Purtroppo spesso va così. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che all'opera mi ci ha portato prima volta a 5 anni. Caracalla, l'Aida, gli elefanti, me l'hanno fatto percepire dal punto di vista dello spettacolo, del gioco, poi il teatro. È stata una salita graduale verso le cose più difficili. Con proiettiti si aprono davanti dei mondi e lui ti insegna a trovare dei tesori dove pensavi che ci fosse la noia. Quindi una scena scespiriana ti accorgi che diventa un momento meraviglioso, ti stacchi dalla vita di tutti i giorni, dalle cattiverie, dalle meschinità della vita, quella vera, e te ne vai in un posto meraviglioso insieme a dei grandi maestri. La mia difficoltà è stata, una volta salutato Gigi Proietti, la sua scuola, trovare quel livello di insegnamento fuori. È come se ti insegna a giocare a pallone Pelé e poi esci e lo vuoi trovare tutti i giorni. Non c'è, purtroppo. Però poi sono stato fortunato, ho incontrato Diego Abadantono, Nino Frassica, Sergio Castelletto, Paolo Villaggio. Da quel punto di vista sono stato fortunatissimo. Perché allora dici che sei un carattere crepuscolare? E quella è la malinconia di noi meridionali. Mio padre era siciliano, abbiamo la tragedia greca incorporata, poi sono del cancro, mezza parola ci ferisce. Sì? Che giorno? Otto. Di che? De luglio? Otto, io tre, tesoro mio. Mezza parola, rimaniamo tre giorni accartocciati su noi stessi, ti feriscono con mezza parola. Impari negli anni a farti una specie di carapace, di struttura, di corazza, ma è sempre… poi per questi anni qui, questi anni maleducati, senza passione, c'è proprio a Roma… Di paura. Sì, di paura, ma la gente poi la converte… Einstein dice una cosa della crisi, che è una meravigliosa occasione per tirare fuori il meglio del nostro talento. Questo paese, non tutti, non mi piace generalizzare, la crisi la sente come un lasciato passare per dire te monto sopra che siamo in crisi, quindi me devo salvare io. E invece no, è proprio il contrario. È in mezzo al fango, nella partita, quando stai perdendo 3-0, la squadra quella vera, fatta di belle persone, di persone per bene, si aiuta, non dice chi se ne frega. Ma questo è il stesso concetto, perché la gente non sa andare in barca. A largo capisci che seppure te odi, ma in quel momento devi sospendere, ti devi voler bene, ti devi aiutare, torniamo a casa vivi, poi al porto semenamo. Invece questo paese litiga a largo, come i capponi di Renzo, che mentre venivano portati per essere cucinati, litigavano tra di loro. Noi facciamo questo. Il tuo primo libro, nemmeno con un morso all'orecchio, hai citato prima tuo papà. Quello è un inno alla famiglia, ai legami, all'amore. Però io dico sempre, ho detto una cosa, l'ho presentato miliardi di volte, però una cosa l'ho detta sempre, il verbo può sembrare brutto, ma cerco di raccontarmi, di spiegare, mio padre quel libro se l'è guadagnato, se l'è guadagnato, per esempio, tutti i giorni, con lo stare sul campo, con un figlio faticosissimo, facendo lui il mestiere che faceva, curando i poveri, i disperati, non facendo mai carriera, non pensando mai alla sua carriera, ma pensando all'essenza del suo mestiere, cioè aiutare la gente. E lui mi diceva sempre, il paziente torna bambino perché ha paura, oltre a medicina ci vuole pure un sorriso. Io quando vado al medico adesso, il mio padre non c'è più, entri e manco te stanno a sentire, come l'animoretti in caro diario, lei è uno che, sì, sempre non generalizzando, ma se tu non incontri un medico che ci mette, ecco, anche uno sguardo, l'anima, 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 l'anima. Ma tu vai sul palco, vai in televisione con quel sorriso, con quel desiderio di regalare un sorriso? Sì, quello sì, l'ho capito la prima volta. Ci voglio mettere retoriche, ma... No, 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 guarda, non lo sapevo, perché un conto è quando te lo dicono, tu mi fai tanta compagnia per strada, quello è bello, no? Roma non è che sia solo in cattività, c'è anche ancora, grazie al cielo, tante cose belle. Tu mangi insieme a me, la sera, e te lo dicono, lo capisci, non è che... Però, una volta mi arriva una foto, una signora si era fatta fotografare nella sua cucina, allora diceva, sai la cucina, i pensiletti, la madia, il televisoretto, quello piccolo, e la foto immortalava nel televisore me, che stavo presentando affari tuoi, lei a fianco, nella cucina. Se lo vedi, tu dici, cavolo, ma io le faccio compagnia veramente, veramente ceno insieme a loro. Spostandoci, come dici tu, senza retorica, la prima volta che sono andato in un ospedale invitato perché presentava affari tuoi, e un primario mi disse, certo, serve la chemio, servono le medicine, ma quella mezz'ora in cui i bambini a letto ridacchiano insieme a lei, cioè quella roba fa bene come le medicine. Sembra che salti di palinfrasca, ma in realtà c'è una frase che non so se riesco a ritrovare nel tuo libro, in cui tu dici, per essere felici, prova ad aiutare gli altri, tu un po' ci provi, non so se si può dire o se ti va di dirlo, però insomma, sei uno che si dà un po' da fare, ma nel senso che aiuta te aiutare gli altri? No, quello non è terapeutico, come quella cosa che dice, hai scritto il libro perché il tuo padre scomparsi è terapeutico, non è vero, sono stati due anni e passa di inferno, perché dover scrivere il tuo padre che è già andato via e doversi ricordare altre cose è stato un disastro, proprio l'opposto dell'essere terapeutico. Io vado, senza appunto stare a fare la reclame di se stessi, nei luoghi del dolore, che sia il carcere, che sia gli orfanatrofi, gli ospedali, perché la mia famiglia mi ha insegnato che si vive così, ma senza la ricompensa, non è che faccio quello perché poi voglio una medaglia, si vive così, mio padre fin da bambino mi ha detto sempre una cosa, guarda di dietro che c'è sempre qualcuno che zoppica, lui diceva una cosa che io all'inizio non capito, mi diceva, dopo di te il diluvio, ma lo diceva comicamente, in maniera ironica, va a dire girati a guardare, che non c'è il diluvio, c'è sempre qualcuno che zoppica e nel nostro piccolo, una cosa che ho imparato con i miei amici della comunità di Sant'Egidio, non c'è nessuno così sfigato, lo dico alla moderna, non c'è nessuno così povero che non possa dare una manina a un altro, un sorriso, una cosa, lo capisci quando vai appunto e ti sporchi le mani e ti butti in pista, lo capisci, tutti possiamo dare una mano. Quindi sei uno a cui il successo non basta? Il successo è il participio passato, quindi non è che non basta, non mi interessa, mi interessa fare delle cose nella vita, di questo mestiere vorrei non esserne schiavo, vorrei un giorno prima del parrucchino, prima di 100 ore di trucco, prima che congelino in un frigo per il giorno dopo, spero di avere la forza e anche quattro spicci in banca perché con le poesie al supermercato non ti danno i sofficini, spero di potermene andare per mare. Per mare? Per mare o al mare anche da fermo e non esserne schiavo, ecco io avendo visto insegnare proietti so che non potrei insegnare, però sicuramente qualche corso di preparazione alla vita legata al lavoro quello lo potrei fare, ogni tanto mi chiamano, insegnare proprio nel senso si entra così la battuta la dici così, no, quella è una responsabilità troppo grande, ma che non è che non la voglio, non sono in grado, però se tu mi dici guarda io ti spiego come si va un provino, ti spiego come ti potresti vestire, magari ti racconto di quattro libri che secondo me ti potrebbero cambiare l'approccio al lavoro, quello potrei farlo, ecco ad una certa età, secondo me lo dice anche Hermanesse, bisogna accumulare durante la vita, io ormai ce ne ho 50, insomma gli antichi romani c'erano morti, Alessandro Magno c'erano 30, Otello già era lì per soffocare la poveretta e andare via, no sto dicendo, allora Hermanesse dice devi accumulare per poi spenderlo, ma spenderlo per gli altri, allora stare, io non vorrei ritrovarmi fino al 90, attaccata alla poltrona, questo è un paese che la poltrona ce l'ha imbullonata come i Playmobil, siamo con la vita così infilata, vorrei andarmene, vorrei andarmene allegro ed essere felice, visto che parliamo anche un po' della macchina della felicità, perché secondo me questo mestiere può darti a vedere, ma la vita soprattutto te la deve dare. La macchina della felicità ha il mare come destino, come desiderio e come destino, però nel finale sembra far capire che la felicità non si può raggiungere, che è impossibile da raggiungere e che questo desiderio quindi è una fregatura. No, è il contrario, io allora anzitutto, dobbiamo capire allora, senza svelare il finale, perché magari qualcuno vuole leggere, è un finale non consolatorio, se io avessi scritto, adesso lo so che sembra che parliamo incifrato, sembriamo due agenti segreti, la felicità eccola qua, si, non è il fast food, non è il faccio i panigli, e che cos'è la felicità allora? Ma è una roba più complicata, anzitutto Itzo, che è uno straordinario scrittore, dice che l'idea della felicità davanti al mare è un'idea semplice, quindi già se c'è il mare puoi essere più felice, ma anche amando la montagna, la felicità è già nel fatto che c'è una vita e che non la vuoi sprecare e la vuoi vivere, io ho timore della malattia, ma non ho timore della morte, allora ti dico, il finale non è consolatorio, perché io posso consolare, anzi devo consolare il concorrente che ha d'affari tuo e purtroppo non vince, allora certo ci vuole tutta la mia capacità consolatoria, da bravo condottorone, è Bracobaldo che ti consola e mi fa piacere poterlo fare, mi dispiace quando non vincono perché io so le loro storie, in questo periodo i soldi servono ancora più del pane e quindi servono per comprare il pane, quindi prima d'affari tuo si veniva per un sogno, adesso ci viene per i bisogni, quindi quando ho proprio i bisogni quelli veri, forti, feroci, allora quando perdono io lì voglio essere consolatorio, io mi regalo il lusso di raccontare l'idea mia di felicità che è eterna, che è più complicata, che non è fast food, non si entra, non si prende l'happy meal. Cosa vuol dire che è eterna? Quei due lì non li ho consegnati ad invecchiare in un chiosco, non sentendo più uno l'altro litigando, passami il ghiaccio che hai detto, basta sei intrattabile, l'ho consegnati per sempre una felicità perfetta. E dov'è questa felicità perfetta? Come si chiama? Paradiso? Cos'è? Anche, sì certo, è certo, mica l'inferno, certo, la felicità è il paradiso. La felicità, lei sa cos'è la felicità, infatti la regala, si può dare la felicità a una donna, a un uomo che ha? Come no? Cioè un uomo può dare a un altro la felicità? Io direi che deve, il titolo infatti è quello, sembra meccanico, sembra avere a che fare con bulloni e chiavi inglesi, la macchina della felicità, in realtà la macchina della felicità siamo noi. Se abbiamo la fortuna di incontrare una persona che ci fa sentire l'urgenza, proprio la necessità di diventare la macchina della felicità, non per noi stessi, per quella persona. Vittorio nel romanzo, quando si innamora follemente di Laura e Laura lo disarma di tutto, lui decide, guardando la foto che poi è la copertina, e lei dice, questa sono io nei miei sogni, lui decide in quel momento che dovrà realizzare il sogno di Laura e quindi lui diventa, forse non lo sa, diventa la macchina, però diventa la macchina della felicità. E poi lui cambia? Lui in realtà tutti i primi 50 anni li passa non dormendo, ma in realtà è addormentato, quando poi finalmente incontra la donna che lo fa dormire, chiude gli occhi, ma in realtà vede, comincia a vedere, che dovrebbe essere il contrario. Flavio, però Laura devo leggere, non so se qui parli di te, ma c'è scritto che Vittorio dice, soprattutto nessuna donna ha scelto me, forse non l'ho incontrata, non l'ho riconosciuta, o forse lei che mi ha riconosciuto ed è scappata via, non lo so, poi mi sono fatto prendere dal lavoro e quando ti giri un attimo per dare un'occhiata alla tua vita ti accorgi che il tempo se n'è andato. C'è un po' di nostalgia, un'amarezza, oppure è un rischio per tutti questo, anche con la persona che hai deciso di sposare per esempio, accorgersi che il tempo se n'è andato. No, un po' mi scoccia che sia passato, perché mi sono divertito molto, io mi sono divertito molto in questi anni, io quando mi dicono la gavetta, io non è che dico non l'ho fatta, ma non la chiamo così, perché dentro c'è un concetto di sofferenza, che io non ho vissuto perché ero pazzo e sono ancora pazzo di questo mestiere e quindi io sono stato felice e soprattutto ho avuto una fortuna, c'è stata ad esempio un'estate straordinaria mentre giravamo la terza serie di Don Matteo, io ho avuto un privilegio, una sera mi sono accorto, mentre lo eravamo, che eravamo felici, vivevamo in un agriturismo tutti insieme, ci dovevamo mettere film, la città ci voleva bene, ci volevamo bene tra di noi, è una cosa che capita una volta nella vita, non ricapita sempre, qualche volta lavori, è routine un po' così, tu ci metti tutto il tuo, ma magari non leghi con gli altri, per fare un esempio, io so che ci sono stati dei momenti, dei tempi della mia vita in cui sono stato felice e certo mi scoccia che se ne siano andati, che non potranno tornare, sì ne verranno altri, ma non quelli, c'era anche dentro una spensieratezza, c'era anche dentro un'incoscienza, adesso c'ho mille responsabilità in più. Ti manca non avere dei figli per esempio tuoi? E c'è un concetto che rifiuto, ma non perché io non li abbia, non è meglio chi ce li ha, i boss della mafia c'hanno tutti i figli, credo di essere meglio io, questo lo posso affermare. Ma poi non sono un possesso i figli, no? No, no, ma lei dice chi li fa è speciale, chi non li fa è un cretino, chi non li fa, io per quanto mi riguarda sono stato un uomo profondamente rigoroso, non mi sono buttato nella prima storia che mi è capitata, dicendo ma sì poi va come va, non è che… Quante volte ti sei innamorato così come Vittorio nel tuo libro? Due, due. Io sono stato straordinariamente amato, cioè le donne nella mia vita sono non l'altra metà del cielo, credo siano tre quarti, quasi tutto il cielo, mia madre è il cielo, morendo mio padre mi hanno strappato la terra sotto i piedi, io però c'ho ancora il cielo stellato sopra di me, al di là della legge morale dentro di me come dice Kant, c'ho il cielo stellato che è mia madre e le donne che mi hanno amato e anche questa paziente, donna che come dire popola la mia vita adesso, è una straordinaria presenza. È una persona che ti accompagna verso il destino? È una persona che mi riesce a far ritrovare la misura delle cose e questo per me è importante, per me che è quasi tutto appunto tornando alla Sicilia, spesso le cose sono da tragedia greca, avere una persona di straordinaria intelligenza a fianco che ti dice guarda, è una segretaria telefonica da cambiare, non è una tragedia, questo ho detto anche perché abbiamo sbagliato, si può rifare, quella puntata di affari tuoi non è venuta bene, il mondo grazie al cielo continuerà a ruotare, la luna tornerà, le maree si muoveranno, è questo, adesso ho detto una cosa, ho pudore a parlare di quello che succede nella mia vita privata, perché se io proprio dovessi dire sembrerei spropositato, ma io in realtà dovrei dire anche di più e soprattutto, a parte, te lo dico in due versioni, da tifoso di calcio porta rogna, appena tu parli bene della squadra quella squadra va male, appena tu parli di un grande amore porta rogna e va… Hai parlato troppo bene della Roma? No, no, lo penso, solo averlo pensato, ma noi lì siamo proprio… A me non interessano gli affari tuoi, ma il concetto che hai dell'amore, adesso ho capito. Infatti dico, è, detto in maniera un po' più… non perché allo stadio sia basso, però in maniera meno è, lo dicono i poeti, smetti di parlare, dice parla di un grande amore, quel grande amore smetterà di essere tale, è proprio, cioè cercarlo all'improvviso sulla terra, farne una cosa concreta e dire come di una macchina, dimmi i pregi di questa macchetta e ti dico, gli optional. Tu hai fatto l'amico di un prete, hai fatto Don Bosco. Vi stai elencando come dei reati? No. Di se lei insieme alla sbarra? Qualcuno l'avrà pensato. Sì. Eh? I detrattori ce li abbiamo. Sei troppo clericale, impersonare tutti questi pregi. No, ho la faccia da buono, non sono buono. Ti paga il Vaticano. Ma che mi paga il Vaticano? Cioè ho la faccia da buono. Eh. Pensa che... Ma ti hanno dato anche qualcosa questi personaggi? Erano personaggi in cui, insomma, hai trovato qualcosa? Passare nei panni indegnamente, umilmente, per fiction, per racconto televisivo, nei panni di Don Bosco e nei panni di Don Pietro Pappagallo che viene ucciso alle fosse erdiatine, al di là di essere io cattolico, cresciuto in una famiglia di credenti, al di là di quello credo sarebbe stato per chiunque un'esperienza speciale. Per me non è stata in tutti e due casi, cito questi, potrei dirti anche il padre passionista e Maria Goretti o il frate compagno, amico di padre Pio quando ho lavorato con Sergio Castellitto, ma ci tengo soprattutto a parlare di Don Pietro Pappagallo e Don Bosco, non è stato lavoro, è stato uno straordinario viaggio e lo sai perché ti dico ancora di più avvalorato da quello che la vita mi ha regalato. di solito tu fai un film, vai in onda, va bene, bene, bravo, due interviste, prima, ciao, ti metti lì una bacheca, se c'è un premio, una targa, qualche foto del set, un ricordo, invece per me le cose speciali, quelle vere, quelle profonde mie, sono iniziate dopo, cioè quando tutto è finito, quando in teoria appunto le luci si sono spente. Cioè stretto dei legami? Sì, Salesiani, parenti della famiglia di Don Pietro Pappagallo, andare a presentare, a riraccontare il film giù a Terlizzi. Ma uno potrebbe interpretare un prete o dei preti così se non ci crede? Sì. Sì? Certo. Beh, di un assaltro lo dice Ingenio e Seroquatezza, recitiamo gli eroi perché siano dei vigliacchi e i santi perché siano dei peccatori, quello è recitare. Io odio quegli attori quando leggono il copione e dico odio, no scusa ho sbagliato il verbo, si dice, cioè mi fanno ridere, ecco mi fanno ridere, romanesca a me, mi fanno ridere, poi dici ma questo sono io e se questo sei tu e finito non è recitare, a me fammi fare uno, cioè il sogno dell'attore nell'essenza del mestiere è cercare di assomigliare, avvicinarsi, essere credibile come dice il nostro maestro Poglietti, non probabili, cioè dovete essere credibili all'improvviso nel fare un garaggista, un ingegnere, un architetto con la moglie e l'amante e se dice questo so io e questo so io e allora siamo al bar a fare i simpatici, è diverso, quindi è chiaro. Sì però confrontarsi con la santità è diverso con l'eroismo, è un'altra cosa. Però dico tu sia come persona, nel mio caso anche come credente e anche come artigiano o un attore, vai lì sapendo di essere impotente, di non essere all'altezza minimamente, in tutte le settimane di quelle straordinarie lavorazioni, non ho dormito, dormito a mezz'ora quella... Ma tu non dormi mai! Ma no, ma lì per consegnare proprio il meglio di me e tutte le mattine la mia giornata, come nelle preghiere, tu offri il tuo lavoro, il meglio di te, al lavoro e al Signore, sapendo che, ripeto, non stai lavorando, in quei casi è un'altra cosa. Io sono entusiasta di mio, che sia Don Matteo, che sia stare qui in un'intervista, raccontarsi, raccontare una barzeletta al bar, ci metto lo stesso fuoco, ma in quel caso lì non è stato lavoro e non è retorica, lo dico perché è stato così, alle volte mi sono anche sottratto dal troppo parlarne dopo, perché mi imbarazza anche, mi imbarazza sbandierare una fede, la mia, non è che faccio il testimonial della fede, spero di essere come nell'amore, secondo me va detto poco, va dimostrato molto, se stessi qui a dire l'amore, facciamo, allora anche nella fede, parole poche e come diceva Don Bosco, rendiamo straordinario l'ordinario, c'è tutti i giorni, stare qui con passione, non essere svogliati, arrivare puntuali, arrivare passabilmente dignitosi, pettinati anche se ho dei capelli approssimativi, belli, puliti, carini, è darsi, la vita è dare, poi se c'è la ricompensa, boh forse dopo, ma è dare, e la ricompensa i più saggi dicono che è già nell'aver dato. Il centuplo è qua giù, ma tu Flavio, tutte queste parole, tutti questi pensieri, che si arruffano, lo so che le capisci, ma sono le cose che pensi di notte quando non riesci a dormire? Sono parte di quelli? Ho capito una cosa negli anni e provo a farla, siamo molto bravi a portare la macchina a fare il tagliando, la lavastoviglie, il coso, l'ever calcare, di noi, cioè come dire, ci distraiamo e si ammucchia la polvere, io non ti dico tutte le notti, ma quasi, giocherellando col gatto, guardando i tg della notte, però la mia, come dire, riavvolgo come fosse alla moviola, al montaggio di un vecchio film e dico lì magari sono stato poco simpatico, lì ci ho avuto poca pazienza, quella cosa la potete fare meglio. Don Bosco avrebbe detto che si chiama esame di coscienza, vabbè, vabbè. Ma se tu te lo fai un tagliandino notturno, come la buona notte di Don Bosco e ti autoleggi una cosetta e dici a che punto sto, anche a che punto sto con la fede, a che punto sto con la passione verso le persone che amo, la cura, gli anni in cui subito dopo quando è morto mio padre abbiamo sbandato, non siamo riusciti con mia madre e mia sorella, volevamo, ma c'era qualcosa, la rabbia, il dolore, non riuscivamo ad avere oggettivamente cura uno dell'altro, ci provavamo, l'abbiamo dovuta ritrovare, ma ti devi rimboccare le maniche, cioè quando io vedo i miei amici o comunque le persone ed è un esercito di separati, a me viene da ridere, i miei sono stati insieme 57 anni, ma non, sempre con l'esempio quello per capirsi proprio, non sono stati tutti da mulino bianco e non sono stati per farsi compagnia e non sono stati una passeggiata, ma si sono rimboccate le maniche tutte le mattine, ci hanno creduto, secondo me questi sono anni sempre senza generalizzare, però siamo molto ripiegati su noi stessi, probabilmente uno dei motivi per cui anche con grande autoseverità nei miei confronti non mi sono sposato è perché non volevo trascurare una persona, perché ci sono stati anni in cui io non mi sono accorto, ma io non ho fatto neanche un giorno di vacanza e secondo me è stato più dignitoso, certo adesso dici mi mancano dei figli, ma sì certo, però siccome io sono stato spettatore in prima fila, come l'ha abbonato Rai in prima fila di un matrimonio meraviglioso, di una storia d'amore meravigliosa, forte, sofferta, potente, io non ho voluto vivere una cosa dove sentirmi dire dopo due o tre anni, non ci sei mai, perché sarebbe finita così, ti sei tolto delle cose, sì, probabilmente una volta non sono stato egoista e adesso sarei qui con i bambini e ti parlerei, ah non sai Gigio c'ha 9 anni… Ma si può essere padri anche non biologici, si può essere padri di tante persone che incontri? Sì, adesso ormai sono quasi nonno, no no ma certo, ma io… C'è una paternità diversa, che è di più, o perlomeno uguale? Ma guarda, sicuramente mi commuove il mare di carta, di lettere che mi arrivano dai bambini e oltre alla quantità anche la qualità, delle cose che ti schivano, una volta io l'ho preso come un complimento straordinario, una bambina mi ha scritto sei il cartone animato più divertente dopo Peppa Pig e già che tu mi immagini, mi percepisci cartone animato e dopo Peppa Pig e io sono per te la cosa più divertente, io ti dico, a me, voglio dire, sapere che a casa dei bambini ridono, si sentono meno spaventati dal mondo… C'è uno che legge le lettere che arrivano… Io allora, quando non riesco che veramente siamo sormontati, ho un paio di anime pie e io la priorità la sanno, bambini, anziani, malati, carceri, quello, quella che dici tu voglio sposarti, voglio una tua manica… No… Pensieri da uomo e entusiasmo da bambini… Quello sempre, è la ricetta, quella è la ricetta, quella è la ricetta… È un lavoro, non è solo… Ormai sono entusiasmi da uomo un po' vecchio, ormai sempre l'entusiasmo è quello da bambini, ma senza entusiasmo, senza passione non vai da nessuna parte, io, guarda, è la fregatura di quelli che lavorano con me ad esempio a fare i tuoi, siamo una squadra straordinaria, però lo so che loro ogni tanto mi rifilerebbero una moglie, perché io non andrei a casa mai la sera, perché come serpico, sei da solo, dici a Flamma, ma non è ora che andiamo, dico andate, andate, se ne sono accorti anche le guardie giù la nostra straordinaria sorveglianza al teatro di Vittorio fa, dottor, c'è a lei sempre l'ultimo, ma perché secondo me devi anche comunicare un buon esempio, io ho visto sui set, se il regista è elegante non vuole una parolaccia, se si sbraga la testa tutto il pesce, si sa, quindi se io che conduco il gioco comunicassi una disattenzione proprio umana, se sbragano tutti, ma involontariamente non è che lo fanno apposta, allora tu devi essere, magari non sono il primo a arrivare perché non dormendo la notte mi riappennico, detto alla romana, la mattina, quindi magari arrivo un po' più tardi, ma poi tutta la giornata, ma con grande gioia di essere lì, ci vuole entusiasmo, la vita è quella, è passione. Hai cominciato, le prime parole, adesso poi le risentirò, le prime parole che hai detto erano noia, malinconia e hai finito ripetendo entusiasmo e sorridendo molte volte. Ma la noia è un nemico che io sorveglio, perché mi annoio io di me, mi annoio della mia pesantezza, mi annoio delle mie inquietudini, io ne ho levate abbastanza come zavorra, ma io vorrei essere ancora, si confonde, è meravigliosa la pagina di Calvino sulla leggerezza, nelle lezioni americane, tra leggerezza e superficialità, io non inseguo una superficialità, quella anche volendo non potrei, però è la leggerezza, sì. Mi dai una colonna sonora per questo momento? La colonna sonora diceva una volta in America. Perché? Ti dà la spinta? Perché ci sono io con i miei amici da piccoli, perché qualcuno ci siamo persi, perché l'amicizia per me è un valore straordinario, non essere dei gangster, però voglio dire, sapere che ti puoi girare, che almeno uno, anche se tutto il mondo ti darà contro, uno ci sarà. Se me lo dici così, come in un duello, un, due, tre, tira fuori una colonna sonora, ti dico tutta la colonna sonora che c'era fatta da me. Allora, entriamo nella leggenda. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie. 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 Grazie a voi. 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 Grazie a voi.